Dal 29 marzo vieni a firmare ai gazebo in tutti i comuni. Sostieni i 5 referendum della Lega Nord. Cancelliamo la legge Fornero e la legge Mancino. Tassiamo la prostituzione. Riportiamo ordine e sicurezza nelle nostre strade. Avoliamo le prefetture. Stop ai concorsi pubblici per immigrati. Diamo la precedenza ai cittadini italiani. 0266 234 234. Vieni a firmare.